papà ma dove stai andando che ti stai vestendo vada a prendermi un caffè papà dove non sono chiusi il caffè non hai capito come sono chiuso si è tutto chiuso no papà non puoi uscire no riesco a prendermi un caffè sono stanco e stupro no non puoi uscire papà vada a prendermi un caffè e tanto è tutto chiuso scusi è aperto il bar si può avere un caffè grazie